Per noi è estremamente importante questa iniziativa perché è la vera restituzione di un lavoro che va avanti da molti anni in questo territorio, grazie a darci solidarietà così come ad altri soggetti che accolgono le persone provenienti da altri paesi nel nostro territorio, in coordinamento stretto con la prefettura di Terni. Il valore aggiunto è quello di non limitarci ad un progetto specifico, ma creare una vera e propria integrazione e relazione di territorio, valorizzando quello che è un patrimonio che spesso rimane in disuso, nel fatto specifico l'olio è stato raccolto nei diveti messi a bando dalla direzione patrimonio dell'amministrazione comunale e quello che viene raccolto oggi e consegnato in maniera simbolica da Arci è solo il punto di partenza per un filone che sicuramente impegnerà un percorso formativo e di autopromozione da parte delle persone che sono oggi titolari di diritto di asilo, ma soprattutto per tutta la città.